Torna lentamente alla normalità la mobilità cittadina di Teramo. Proprio oggi ripartono le corse del trasporto urbano della linea 1 e 1 barrato in modalità non scolastico. Una notizia positiva per la città poiché tale linea è nevralgica per il sistema del trasporto pubblico. Parliamo della linea storica che collega direttamente le due periferie del capoluogo, la Cona a Collaterrato e viceversa passando per la centrale Piazza Garibaldi. Dalle 15 corse effettuate attualmente il servizio sulle linee indicate passerà a 49. Le corse delle altre linee verranno implementate gradualmente anche in riferimento alle ordinanze del Presidente della Regione. L'assessore comunale dei trasporti Maurizio Verna ricorda che in ogni caso i mezzi pubblici vanno utilizzati per ragioni di urgenza e necessità rispettando le prescrizioni riportate all'interno dei mezzi stessi attrezzati tra l'altro proprio in riferimento a quanto stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze del Sindaco. Gli utenti non potranno salire sui bus se hanno sintomi di infezioni respiratorie acute quali febbre, tosse e congiuntivite. Dovranno acquistare se possibile i biglietti tramite sms al numero 48 50 304 scrivendo BALTOUR ed esibendo poi il messaggio ricevuto al controllore. Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di un metro dalle altre persone. Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa rispettando sempre la distanza di sicurezza. Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento degli altri occupanti indossando sempre mascherina e possibilmente anche guanti. Evitare di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente. Un'apposita segnaletica sarà posizionata all'interno dei mezzi per facilitare il rispetto delle norme. Infine l'assessore Verna ricorda che in comune è in corso l'analisi del sistema del trasporto pubblico locale che si avvarrà anche delle informazioni dei cittadini e dei comitati di quartiere o frazione che sono invitati a contribuire con i propri suggerimenti. È facile immaginare che dopo questa pandemia la modalità di spostamento dei terramani cambierà parecchio. Si tornerà ad usare maggiormente la propria auto, ahimè, con nuovi problemi di parcheggio, ma si spera anche nella scelta alternativa della bicicletta.